Salve amici ancora una volta dagli studi di Santa Maria del Cedro, siamo in collegamento con un personaggio io ritengo prima di tutto amico, personaggio importante, un euro parlamentare che da meridionalista si batte a spada tratta come si suol dire e quindi vi presento subito ripeto il mio amico Pier Nicola Pedicini, buonasera Pier Nicola. Alberto il ricambio, l'amicizia è tutta ricambiata. Grazie, grazie. Io ti stimo, ci siamo conosciuti un anno e qualcosa fa e veramente poi ho cominciato a seguirti e devo dire che sei uno dei pochi guerrieri che si battono veramente alla grande perché qualcuno non ci crede ma io ti seguo da vicino e so benissimo le battaglie che stai facendo, in estate sei andato in giro con quel meraviglioso gruppo musicale a portare il messaggio identitario, non dimentichiamo che l'identità è proprio come la carta identità appunto di un individuo e racconta la propria storia. Per Nicola io comincio subito con una domanda perché sto partecipando a delle videoconferenze laddove ci sono dei meridionalisti che suppongono che non ne vale la pena andare a votare perché comunque si fa il gioco del potere. Personalmente sono contrario a questa loro tesi e so che tu hai la mia stessa idea. Questo è l'errore più grave che si può fare, cadere in questa trappola del non voto, di non prendersi una responsabilità di scegliere, di conoscere, di approfondire, di capire che ci sono dei temi che sono di queste elezioni, di questa competizione elettorale che riguardano proprio il mezzogiorno, evitando così, chiudendo gli occhi e facendo in modo che le cose accadano nonostante gli occhi chiusi, è l'errore più grande che si può fare in questa circostanza. Quello che si decide in Europa, quello che io ho potuto vedere con i miei occhi, vivendo quella istituzione, quello che si decide in Europa ha un impatto diretto sulla nostra popolazione, sulla nostra vita e in particolare questo impatto, quelle decisioni hanno un impatto diretto proprio sulla vita dei più deboli e dei territori più deboli. Noi siamo il territorio più debole dell'Unione Europea, quello maggiormente attenzionato dalla politica di coesione dell'Unione Europea e questo già ci dovrebbe far capire che bisogna almeno, quantomeno potenziare la politica di coesione per fare in modo da ridurre il divario economico, sociale, di ogni tipo che c'è tra il Sud Italia e il resto dell'Unione Europea. Quindi l'errore più grande che si può fare è non informarsi e cadere nella trappola dell'astenzione per manifestare un malcontento che però fa solo il favore di chi non vuole altro che il Sud, che il Meridione non si informi, non si coalizzi e non si manifesti come un'entità compatta che fa i propri interessi. Ecco, proprio questo io stavo leggendo mentre ascoltavo anche attentamente te, pace, terra e dignità insieme a Michele Santoro. Tu già sei europarlamentare, sei stato eletto nella legislatura precedente. il PNRR nasce proprio per la presenza appunto di europarlamentari a Bruxelles dove soprattutto il Movimento 5 Stelle perché era conto e il Premier ha spinto affinché il 70% del totale venisse investito al Sud. Poi come solito i mari uvoli, io li chiamo così, magari denunciatemi, hanno fatto in modo che siamo arrivati a cifre che rappresentano il lumicino. Se non ci fossi stato tu e altri pochi a combattere in questi mesi, forse non avremmo avuto nemmeno quel ramoscello di speranza per far crescere il grande albero del meridionalismo o sto dicendo un'eresia? No, no, assolutamente no, tutto giusto. Mi permetto solo di precisare la frase iniziale. Non è stato il Movimento 5 Stelle a ottenere quel risultato. È stata una decisione, non è abbia meriti, non abbia avuto meriti i conti, ma spiego bene che cosa è successo. L'Unione Europea dopo la crisi Covid, quindi all'inizio della crisi economica dovuta alla crisi sanitaria, ha deciso di intervenire con un rafforzamento della politica di coesione. I piani nazionali, il Next Generation EU e quindi i piani nazionali di ripresa e resilienza, hanno la stessa base legale della politica di coesione, cioè gli articoli 174 e 175 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, cioè andare in soccorso dei territori che hanno sofferto maggiormente, quelli più deboli, quelli dove c'è più disoccupazione, dove c'è più disoccupazione giovanile e dove c'è più disoccupazione femminile e quindi particolarmente l'Italia. Quindi l'Unione Europea ha sviluppato questo algoritmo che attribuiva a tutti quanti i paesi membri, in funzione della loro condizione di sviluppo e quindi di ritardo nello sviluppo, attribuiva una quota economica. Questo l'ha fatto l'Unione Europea, la Commissione Europea, con l'appoggio, quindi il voto al Parlamento e di tutti quanti i parlamentari che hanno votato a favore ovviamente, tra cui anche quelli del Movimento 5 Stelle, ma stiamo parlando di tutti i parlamentari, di tutti i schieramenti politici di tutta quanta l'Unione Europea. Cosa ha fatto Conte? Conte ha dato la garanzia, siccome molti di quei 209 miliardi erano a debito, sono a debito, Conte ha dato le garanzie che avrebbe ripagato quei debiti, cioè come dire, siamo come governo italiano, abbiamo dato tutte le garanzie e quindi creato, anche accettato quelle condizionalità che avrebbero permesso all'Unione Europea di dare questi 209 miliardi con una sorta di tranquillità. Dunque questa è la verità, perché bisogna dire la verità, io dico la verità, riconosco i meriti, ma poi non è che bisogna, quando uno viene in Italia e racconta tutta una serie di storie che non possono essere controbattute, semplicemente perché non c'è un dibattito in Italia sull'Unione Europea. Detto questo, per una volta l'Unione Europea è andata incontro particolarmente al Mezzogiorno d'Italia, all'Italia e al Mezzogiorno d'Italia. Io sono stato il primo a fare i calcoli, prendendo quello stesso algoritmo e guardando all'interno del nostro paese, perché lì in Europa hanno fatto i calcoli col valore medio italiano, ma io ho diviso Nord, Centro e Sud e ho scoperto che il 70% era dovuto alla nostra condizione socio-economica. Dunque i governi italiani avrebbero dovuto rispettare quelle priorità, facendo in modo da ridurre specialmente la disoccupazione giovanile e femminile al Sud, nelle aree interne del Sud, particolarmente. Ora, questo non è stato fatto, intanto proprio perché il governo Conte è caduto proprio perché non c'erano, e qua c'è un merito di Conte, Conte aveva stilato un piano che premiava, andava molto incontro a questi obiettivi dichiarati dall'Unione Europea. Salvini ha fatto cadere il governo proprio perché semplicemente non erano abbastanza premiate invece le imprese del Nord e di conseguenza quel denaro si spostava troppo a Sud anziché a Nord. Dopodiché il governo Draghi, con il suo 40% al Sud, ha ristabilito un disequilibrio che andava bene ai partiti del Nord e noi lo chiamiamo Partito Unico del Nord. Quel 40% si è scoperto non era neanche il 40% e si sono introdotti tutta una serie di espedienti come per esempio le gare di appalto, cioè le gare di appalto non è che tu devi dare una cosa al Sud e poi dopo metti un Comune del Sud a competere con un Comune del Nord. È chiaro che il Comune del Nord che ha personale in più, che ha più esperienza sui fondi europei, o meglio, che sono più preparati nel senso che hanno più personale che fanno progetti europei, avrebbe vinto e così è stato per esempio quando Enafro ha fatto una gara d'appalto per un asilo pubblico, per un asilo nido contro Milano. È chiaro che succedono queste cose. Dunque il Sud è arrivato ad assorbire meno del 10% di quel denaro. Quindi qui c'è una grande corresponsabilità di tutti quanti i governi che poi sono espressione di quelle aziende che sono le aziende del Nord. Ecco perché c'è un tema europeo oggi e i meridionalisti non si possono tirare indietro dicendo scusate noi siamo incazzati e quindi ci tiriamo indietro, vi lasciamo il campo a voi. Perché i settentrionalisti non fanno altro che stappare una bottiglia di prosecco e festeggiare sulle nostre spalle. E questa è l'unica cosa più stupida che si può fare. Avrebbero campo libero in tutti i sensi, no? Perché non c'è l'avversario partita vinta a tavolino, come si dice. Ecco sì. Tu parlavi dei partiti del Nord, però stiamo assistendo veramente a qualcosa che non saprei definire perché negli ultimi mesi i signori rappresentanti dei partiti, partitini e movimenti diciamo locali, meno locali, comunque del meridione, quelli che si battevano in petto perché erano meridionalisti, alla fine si sono alleati. C'è una lista che non ce ne vanno più di scudi, di emblemi, no? E lasciamo perdere. Poi ci sono quelli che addirittura si vanno ad alleare col nemico sputato, se così posso dire, del Sud, che è la Lega, però nel frattempo dicono pure che la classe dirigente meridionale credo che sia proprio un paradosso e un'espressione ipocrita esagerata. Cosa si può fare per far capire alla gente che chi sorride sempre e chi cambia bandiera ogni momento è alla ricerca della propria aspirazione? Io personalmente credo che si debba tenere la barra dritta e poi sperare che le persone capiscano, cioè far rendere anche visibile quello che si sta facendo in modo che le persone capiscano che intanto è importante impegnarsi anche nel capire, cioè guardare la storia delle persone che dicono di essere meridionalisti, oggi va di moda, sembra andare di moda. Io vi sto parlando da Benevento, da casa mia a Benevento e qui diciamo che i candidati alle europee più vicini sono la moglie di Mastella, Sandra Leonardo e poi un altro candidato che è della Lega e tutte e due hanno scritto sui propri manifesti Sud, per il Sud, ma da una parte Mastella, se voleva lavorare per il Sud ne ha avuto di tempo e ne ha avute di possibilità e il Sud sotto quando c'era lui non ha fatto altro che peggiorare le proprie performance. La Lega purtroppo sta facendo ancora oggi, la gente non capisce che si fa soltanto il danno del proprio territorio, della propria gente votando queste persone, che sono gli Ascari, i meridionali che da sempre, ma questo succede in tutte le popolazioni, quando le popolazioni sono impoverite, si indeboliscono e si indebolisce anche la classe dirigente, la quale classe dirigente tira fuori purtroppo coloro i quali sono disposti anche a tradire la propria gente per sistemare se stessi, sistemare la propria famiglia e la manifestazione di questa debolezza è proprio nel successo che la Lega Nord, perché io la chiamo Lega Nord, ha nei nostri territori, in Calabria, in Basilicata, in Basilicata le scorse politiche, il partito più votato è stata la Lega, siamo costretti ad assistere oggi di fronte a queste evidenze di partiti che hanno devastato il Sud, che lo stanno svuotando, soprattutto dei nostri ragazzi che sono costretti ad andare via, ma noi non possiamo accettare questa realtà che è sotto i nostri occhi, però la stiamo accettando, e cioè che noi genitori, io una volta ero figlio, oggi sono genitore e vedo ancora che il processo è sempre quello, quello che sembra ineluttabile, di dover vedere i nostri figli che a un certo punto devono andare via da questa terra, e sembra una cosa che non si può fare altrimenti, e invece no, non è possibile, io devo dire che noi dobbiamo in questo momento sforzarci tutti per fare in modo che la prima risorsa che noi abbiamo, cioè i nostri giovani restino nel Sud per fare impresa, per fare attività, per avere occasioni, perché questa è la terra più bella del mondo e non è possibile vederla svuotata per opera di questi dannati politici del Nord che hanno messo in piedi un piano di svuotamento per il Sud, che purtroppo vede la collaborazione di tanti personaggi, anche noi quando si trattava di capire quali erano le intenzioni di Cateno De Luca o di Italia per il Meridione, Italia del Meridione, di queste formazioni, oggi Cateno De Luca si candida alle europee, ma con Sud chiama Nord, ma Nord risponde e risponde sempre che non se ne fotte niente del Sud, questo bisogna far capire alle persone, perché lì dentro tra tutti quei simboli c'è anche il simbolo del grande Nord, che è addirittura peggio della Lega, noi abbiamo subito preso le distanze da Cateno De Luca, perché noi siamo qua a cercare di difendere il Sud. Certo, a me sembra che una parte della popolazione del Sud soffri della sindrome di Stoccolma, no? Si innamora proprio del proprio Aguzzino, qualcuno mi dice ma vatti a informare meglio, vai a vedere il programma, che programma dovrei vedere caro Piernicola? Il programma io se non vado troppo indietro, parto dal piano Marshall per arrivare alla cassa del mezzogiorno eccetera eccetera, per arrivare al PNR e tutto quanto, no? Signori miei, ma se un uomo tradisce, altrimenti si può confondere la cosa, se un uomo tradisce una volta lo perdoniamo, due volte lo perdoniamo, se diventa un abitué, questo è uno gigolo che non possiamo dargli fiducia, quanto meno, se poi lo accettiamo e la sera invece di andare a casa a dormire con i propri figli puntualmente tradisce la famiglia e va a fare i fatti suoi, sicuramente bisogna avere proprio fegato per accettarlo, no? Sì, è un paragone quello che hai fatto, quello del tradimento, diciamo un tradimento di coppia che regge molto bene, io lo direi di più che questa assomiglia più alla situazione in cui una donna viene violentata da un uomo e viene violentata ripetutamente, fino a quando succedono purtroppo queste cose, la sindrome di Stoccolma, la donna stessa comincia a giustificare il proprio violentatore, questi sono meccanismi dell'essere umano che noi abbiamo fatto diventare meccanismi di massa, cioè di popolo, noi come popolo siamo stati violentati nel passato, hai fatto bene a ricordare il piano Marshall che per oltre il 90% è stato speso tra centro e nord, adesso tu sei calabrese, la Calabria ha ricevuto un ottantesimo di quanto ha ricevuto la Lombardia, perché bisognava alimentare questa locomotiva che poi doveva tirare tutto quanto il paese, ma la locomotiva si è organizzata per camminare soltanto lei, questo è il punto, ha staccato tutti i ponti e tant'è vero che nella Costituzione italiana c'era scritto risorse speciali all'articolo 116, risorse speciali al Mezzogiorno e alle isole proprio per compensare quel vantaggio che era stato dato soprattutto alla Lombardia, ma alle regioni del nord, nel tempo bisognava compensare, ma è arrivata la Lega, la Lega che ha condizionato anche gli altri partiti, perciò noi diciamo partito unico, perché è stato il PD sotto il governo D'Alema a fare la riforma costituzionale nel 2001 con l'appoggio della Lega e di tutti quanti i partiti e hanno tolto quella frase, risorse speciali, hanno messo nuove forme di autonomia che oggi si realizzano anche nell'autonomia differenziata e che nel 2009 hanno visto la sua formalizzazione con il federalismo fiscale, quindi è un progetto di lungo termine, loro sono molto determinati a svuotare il Sud e ci stanno riuscendo decennio dopo decennio senza che una classe politica meridionale se ne renda conto, ma soltanto tirando fuori dei partiti o comunque dei politici che sono collaborazionisti a questo progetto. Ecco qual è il punto e tu facevi bene a sottolineare che questa è una cosa che parte dal passato, che parte da lontano e che purtroppo si sta confermando nel tempo, addirittura oggi con l'autonomia differenziata. Ecco proprio quelli del Nord sono organizzati e in questo caso non è un fatto di soldi, ma perché capiscono che se sono tutti insieme come squadra a quei poveri polli del Sud ce li mangiamo in un boccone, ma visto che il Sud come dico sempre anche nei convegni, negli incontri, ha costruito il Nord nel senso prima di soldi, di braccia, di cervelli, oggi vediamo quanta gente importante che studia al Sud e poi tutto quello che ha studiato, che ha assimilato al Sud lo va a regalare al Nord, perché magari possono pagare di più o tutto quanto. Ma questa classe dirigente politica meridionale che si vende al primo standard, nemmeno a una bandiera, proprio al primo standard che potrebbe dargli un po' di luce, un cosiddetto posto al sole. Quando è che noi la smettiamo di votarli e cominciamo a votare gente seria? Magari come te, è facile per me dire votate per Nicola Pedicini, siamo amici, ma votate la lista, votate quelli che volete, ma quelli che realmente difendono il Sud, però fate in modo come se vi trovaste davanti a una statua di Gesù Cristo, andatevi a confessare, non votate quelli che magari vi dicono col sorriso che oggi il mondo è cambiato, che bisogna aprirsi alle nuove regole, perché le regole secondo me sono sempre le stesse. Il diavolo si traveste sempre di migliori vestiti. Scusami se a volte faccio anche io da… è vero? Ma è così, non bisogna fidarsi neanche di me. Le persone non si devono fidare di nessuno, neanche di me, però si devono informare. Io prego che le persone si informino e che da sole arrivano a mettere insieme un po' di pezzi per capire quali sono le differenze. Io la scorsa qualche giorno fa ero a Locri, ero a Tarianova, a Gioia Tauro, ero in questi posti che poi sono bellissimi, ma che vengono disegnati nella mente delle persone come posti oscuri, dove non ti ci puoi neanche avvicinare, dove non ti ci puoi neanche avvicinare, ma è una cosa assurda. Cercare di rompere anche questa narrazione di un Sud sempre sotto la cappa dell'Andrancheta, della mafia, e cacchio, sono i governi che devono contrastare la mafia e l'Andrancheta. I governi sono spesso con partecipi e usano la mafia e l'Andrancheta ha proprio come scusa per non far arrivare le risorse che spettano al Sud, non per solidarietà. Noi non vogliamo nessuna solidarietà, vogliamo quello che ci spetta, perché il Sud prende 4 mila Euro a cittadino in meno ogni anno, quindi 80 miliardi all'anno in meno rispetto al centro e al nord, in termini di spesa pubblica. Questo spiega il fatto che noi non abbiamo le strade che funzionano, che sono tutte scassate, che non abbiamo le ferrovie, che abbiamo il porto di Gioia Tauro, che potrebbe essere davvero la porta per tutte le merci dell'Unione Europea, ma che rimane quasi isolato perché poi deve scaricare le merci, i container nelle navi più piccole che le portano a Genova. Ma quando mai ci vuole una rete di collegamento ferroviaria e stradale che porta tutte quelle merci in Europa, perché deve essere il primo centro di smistamento delle merci verso l'Europa. Però questo non avviene per questi politici del nord. Io dico che le persone devono anche aprire gli occhi, devono capire che se non si informano, che se decidono facilmente, va bene, non andiamo a votare, purtroppo non fanno altro che danneggiare la nostra terra ancora di più e danneggiano il futuro dei nostri figli. Perché qualcuno che sta provando a farlo, e non ci sono solo io, ci sei tu, ci sono le persone come noi che stanno provando a fare qualcosa per il Mezzogiorno d'Italia, nonostante i meridionali che si mettono insieme ai settentrionali. Quindi sta loro cercare di capire la differenza. Io quando ero all'Ocri ci stavano 10 persone, ma io faccio comizi pure con una sola persona, mi metto a parlare anche con una sola persona per cercare di fargli capire che cosa ho potuto vedere dalle istituzioni. Però questo qui deve essere in qualche modo, come dire, almeno osservato, non dico apprezzato, almeno osservato. Prima di chiudere, c'è una voce che ormai da decenni va avanti, no? Non arrivano i soldi al sud perché non li sapete spendere. Bene, in un convegno, in un dibattito dove tu ci hai dato il piacere di mandarci un saluto con il nostro amico Marco Esposito, Marco ha dimostrato che arrivano molti meno soldi in Calabria, ma guarda caso la maggior parte dei sindaci sono virtuosi, nel senso che nonostante che gli arriva poco o niente riescono in qualche modo a tenere dritta la barra, no? Eppure tu sai sono i più vessati perché nella scala politica un sindaco di un paese di 3, 5, 8 mila abitanti purtroppo non conta molto, ma proprio la figura del sindaco ormai non conta molto, basta un errore su un documento e si rischia addirittura il carcere, no? Però guarda caso i sindaci calabresi sono i più virtuosi e come dice Marco, se noi dessimo un litro di benzina a un sindaco del nord con un paesino piccolo uguale a quello del sud, probabilmente il sindaco del nord ci fa 10 chilometri, quello del sud per esperienza proprio perché viene da una condizione di disagio riesce a farne 30 di chilometri, quindi ancora una volta il sud non è vero che è inferiore, non è vero che non sa spendere, non è vero che non riesce a programmare, se non citate gli strumenti quelli che programmano in Veneto sicuramente saranno sempre più forti di noi, no? E' così e tra l'altro questa nostra capacità di riuscire nonostante queste difficoltà è un'arma purtroppo che ci penalizza perché poi alla fine noi con l'ingegno dei meridionali comunque riusciamo a tirare avanti in qualche maniera, però noi dobbiamo capire che invece una cosa che hanno loro la dobbiamo prendere pure noi, imparare pure noi, quella di mettersi insieme, fare squadra, noi dobbiamo fare squadra, tutti questi sindaci che hanno maturato queste esperienze e che lo fanno in nome della loro comunità e quindi anche in nome della comunità meridionale nel suo complesso, deve imparare a difendersi da questi obiettivi di svuotamento che hanno quelli del nord e che hanno anche quelli europei, perché un nostro ragazzo, un nostro giovane deve poter scegliere di andare a visitare l'Europa, deve andare a visitarlo, se vuole lavorare in una parte per fare esperienza per dieci anni deve poterlo fare, ma deve poter scegliere di farlo, non deve essere forzato ad andare via e invece loro hanno organizzato proprio il meccanismo perfetto per tirare fuori questi ragazzi che sono appunto, come dicevi tu, preparati, competenti perché le nostre università e quella di Calabria, l'università di Rende adesso sta avendo dei successi importantissimi a livello mondiale, ebbene nonostante tutto i nostri genitori spendono dei soldi per prepararli e poi arrivano queste competenze, se ne vanno al nord e vengono usati spesso da imprenditori come quel Brambilla che disprezza il mezzogiorno d'Italia, io l'ho denunciato a Brambilla, perché va in televisione a dire che i meridionali sono antropologicamente inferiore ai settentrionali, l'ho denunciato e noi faremo causa per quello, però voglio dire qua il problema è che se ne vanno via con questo meccanismo i nostri migliori medici, se ne vanno via i pazienti, se ne vanno via i ragazzi a studiare, se ne vanno via a lavorare, se ne vanno via anche a studiare, quindi le nostre università si svuotano, si sta svuotando tutto al sud, con la scusa che poi deve rimanere soltanto il turismo, no, noi dobbiamo essere turismo, agricoltura, dobbiamo essere lavoro, anche industria, impresa, dobbiamo essere tutto perché ci sono 20 milioni di abitanti, se esistesse uno stato del sud sarebbe il quinto stato nell'Unione Europea per popolazione. Ecco, un messaggio di programma della tua lista Pace, Terra e Dignità insieme a Michele Santoro, una delle tante proposte che farete quando sarete a Bruxelles nel Parlamento. Ma intanto bisogna fermare la guerra, fermare questo proposito di guerra che l'Occidente ha, avete sentito le parole di Stoltenberg di ieri che diceva che noi dobbiamo borbandare, dobbiamo sparare direttamente i nostri missili sulla Russia, questa è una dichiarazione di guerra alla Russia, ma la Nato è nata per difendersi, l'Ucraina non è nella Nato, noi siamo nati per difenderci, noi non possiamo dichiarare guerra alla Russia, significa guerra, significa che i nostri ragazzi non saranno più dei semplici migranti, ma saranno dei soldati che devono andare a finire in guerra, qui si va di male in peggio in mano a queste persone, quindi dobbiamo fermare la guerra, anche perché i costi della guerra li pagano i territori più deboli, li paghiamo noi meridionali principalmente, il definanziamento del PNRR per le armi lo stiamo pagando noi, il fondo di sviluppo di coesione che è stato tagliato per le armi le stiamo pagando noi, il fondo di perequazione che è stato svuotato serve per le armi, ma quello è del meridione, del mezzogiorno d'Italia, quindi abbiamo un interesse diretto a fermare la guerra e poi vogliamo essere presenti al Parlamento europeo per fare in modo che la politica di coesione finalmente funzioni anche in Italia, come è successo ad esempio in Germania. Ecco, volevo proprio accennare al fatto che i soldi vanno spessi per gli armamenti, addirittura si sta scorticando in fondo al barile, pensa che, sento dire, che i cosiddetti centri per i pacchi alimentari sono vuoti a fine mese o a inizio mese, quando riuscivano a dare qualche borsa dove c'era un litro d'olio, un po' di zucchero, pasta, adesso la gente si rivolge ma la borsa è quasi vuota, non c'è né questo né quello né quell'altro e chi dirige questi centri, proprio mortificati, non è arrivato niente, perché? Eppure è scritto Unione Europea, no? Su quelle confezioni di pasta, pomodori e tutto quanto, vuol dire che quello che bisognava dare ai disagiati addirittura sta andando magari per comprare le bombe, per comprare missili, per comprare carri armati e questo veramente ci dispiace, per non parlare poi di quello che sta accadendo in Palestina, perché ahimè, come al solito il governo italiano più di tutti, si nasconde, non vuole far piangere nell'uno o nell'altro, ipocritamente appunto perché noi siamo subcolonia anglo-americana, non riesce nemmeno a dare un giudizio. Io ho sentito delle persone, scusami se parlo sempre e lascio parlare poco te magari, io ho sentito delle persone che ho avuto modo di intervistare tempo fa che hanno dei ruoli importanti nelle comunità ebraiche italiane, dire delle cose scandalose che al di là della religione, perché l'umano nasce senza religione, sono i genitori che poi insegnano ai figli determinate cose, no? Ma l'umano nasce senza genitori come nasce senza vestiti e questi al di là della religione non si rendono proprio conto di quello che dicono, Netanyahu ha ragione perché questi lo hanno aggredito, ma se uno ti dà uno schiaffo e tu gli bombardi la casa e c'erano anche 100 persone che non c'entravano niente, probabilmente hai esagerato, l'America timidamente ogni tanto fa vedere che da un piccolo strillo, ah ah sai, per far vedere che dice qualcosa, l'Italia muta, proprio muta, perché accadono ancora queste cose per Nicola? Ci siamo dimenticati di quello che è la guerra? Non solo, sì, in questo momento c'è una perdita proprio dell'umanità ed è questo è molto preoccupante, ma questa perdita di senso dell'umano sta sconfinando in un aumento del rischio della pericolosità, un aumento del rischio di un sviluppo di una terza guerra mondiale che nessuno vuole e io ecco perché dico quanto è importante, magari con questo possiamo anche chiudere se vuoi Roberto, però quanto è importante tornare all'inizio, quanto è importante andare a votare? Scusate, qui c'è una guerra alle porte che nessuno vuole, ma al Parlamento europeo il 95-96% dei parlamentari ha votato a favore, quindi c'è un problema anche di rappresentanza delle persone, le persone hanno un sentimento, una volontà che non viene rappresentata nelle istituzioni perché semplicemente le persone si astengono, si astengono e quelli che votano fanno il bello e il cattivo tempo e scelgono per tutti quanti noi, stanno scegliendo per noi di fare la guerra, di aumentare questa guerra fino al punto di mandare i nostri ragazzi in guerra e questa è una vera e propria pazzia che noi dobbiamo contrastare in tutti i modi possibili. Per Nicola io ti ringrazio, è sempre un piacere e un onore parlare con te perché non solo la tua preparazione immensa come tanti altri nostri amici, ma il dialogo scorre facile perché forse siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché ci guardiamo prima allo specchio per vedere se oggi siamo stati onesti intellettualmente con noi stessi e poi il resto. Intanto ti saluto in bocca al lupo e speriamo che qualcuno che ci ascolta e non voleva votare cambi idea. Speriamo di sì, noi davvero lo speriamo, crediamo che questo sia l'obiettivo anche di queste belle chiacchierate che ogni tanto ci facciamo. Grazie Umberto e bocca al lupo anche a te. Grazie, alla prossima. Ciao a tutti. Per Nicola, l'ultima cosa, questa è fuori registrazione, solo che io sono napoletano e sono nato in piazza Carro Terzo. Ah, ecco, siccome pensavo fosse rinascita, no? No, ok. Però la televisione... Come potevo essere? Sì, vivo in Calabria da molti anni, quindi ho la famiglia. Quindi quando facciamo riferimento alla Calabria, perché la televisione è calabrese, no? Quindi... Sì, 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 la TV è in Calabria. Però io mi ritengo cittadino del sud, quindi conosco benissimo. Tu pensa che i miei nonni materni erano di Pannarano, vicini a te, no? Sì, sì, sì. Quindi come faccio? Come faccio a non essere meridionalista? Ma vale lo stesso pure per me, io non mi sento più soltanto un sannita, mi sento proprio un meridionale, veramente. È così. È importante. Speriamo che tu possa veramente portare la nostra bandiera. Vedi, io stasera non ho accennato a Pino Aprile, perché sai, a volte mi disgustano certi discorsi che sono costretto a fare con determinate persone di cui non faccio nome, e Pino Aprile è perché fa il doppio gioco, è così, eccola, proprio... Allora io rispondo sempre, guarda, fa una cosa, mettiti tu in gioco, io nel mio piccolo lo faccio e non faccio il doppio gioco. Fai tu, più o meno come me, o comunque vai oltre, senza fare il doppio gioco. Se riesci a smascherare Pino Aprile, tanto ti guadagnato. Altrimenti è fuffa, è solo invidia, perché lui è riuscito veramente a scartinare un mondo chiuso. solo Angelo Manna e Zitara, ma stiamo parlando di 50 anni fa. Adesso c'è Pino Aprile, che è l'unico realmente che si dà da fare per far capire alla gente. Non per niente va avanti e indietro in tutta Italia. E lo stesso sta facendo Marco Esposito, no? Sì, sì, certo. È stato pure qui, quindi... Ma ti ho rubato un sacco di tempo, scusa le defiant tecniche. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, basta che tanto si mette sempre insieme. Ma certo, grazie ancora. Alberto, ciao. Alla prossima, ciao, ciao.